benvenuti alla presentazione degli splendidi edifici della nostra società case eco scelti tra i più belli in assoluto a costi molto competitivi indicativamente a 900 euro al metro quadro consegnati montati e rifiniti chiavi in mano dai paesi nordici prodotti certificati iso 9001 tuff sincert con tecnologie moderne antisismici ignifughi classe isolamento termico a più sei volte superiore alle case in mattoni siamo come un rifugio anti atomico garantite 30 anni la formula è semplice contattaci sul sito www.caseeco.tk oppure su facebook caseeco o telefona al 3 3 8 17 57 654 oppure email ufficio tecnico punto caseeco chiocciola gmail punto com scegli una casa su youtube caseeco o caseeco 2 e ti invieremo preventivo ti aiutiamo anche se cerchi terreno eccetera dopo parla con il tuo geometra nei paesi dove 100 euro al mese sono lo stipendio medio tutto costa 5 volte meno e nonostante il trasporto siamo da un terzo a metà il prezzo degli immobili equivalenti italiani i nostri prodotti sono superiori e innovativi in quanto la tecnologia è più avanzata al nord europa e le normative più severe comperare case a basso prezzo è a vantaggio per i giovani b ottimo investimento di denaro c promozione ecologica e sociale riassumendo 900 euro al metro quadro garantite 30 anni certificate iso 9001 il prezzo presto salirà siamo in presenza di un boom credeteci vi aspettiamo grazie grazie a tutti grazie a tutti